Signori, buongiorno. Vi ringraziamo di questa magnifica manifestazione organizzata da Bruno Mancini e da Roberta Panizza. Sono felice di stare con voi. Io sono Angela Maria Di Peri, presidente delegata di la Ischia Italia. Ho il piacere di portare i saluti di Silvana Arbi al giudice, del presidente della regione uscita di Ruanda, sta Venezia, poteva venire anche lei. Purtroppo le condizioni atmosferiche non le hanno permesse perché Venezia è allagata. Non si possono prendere neanche gli addomezzi e né il treno. Quindi porto i suoi saluti. Porto i saluti per gli isteri di Meglio, da Flora Rucco, la vicepresidente della DILA, e da Nona Serri. Nona Serri è la presidente dell'Ivitat e quindi porto i suoi saluti e anche da Flora Rucco, la vicepresidente sia della DILA che dell'Ivitat. Di Milena Petrarca, presidente dell'associazione internazionale latina New York e anche presidente delegata della regione Campania Vila. Poi porto i saluti di Giuliana Sorà e Andrea Del Buono, anzi lo ringraziamo, il nostro dottore Del Buono è un medico internazionale, si occupa per la salvaguardia della salute e per la lotta contro i tumori. Altrettanto anche Giuliana Sorà della Campania. Porto i saluti di Alfonso Gurreri, un nodo architetto di latina internazionale, molto amico anche di Bruno, che non poteva venire. E anche da Cecilia Solacez, che è presidente dell'associazione architettaria latina messicana. Ecco, quindi ringrazio ovviamente anche quest'anno Bruno, Roberta Venizia, ma in modo particolare Mario Ceroli, che grazie a lui abbiamo questa bellissima antologia, magari in emozione, con la sua opera. Mario Ceroli è un grande personaggio, e mi fa piacere dire e spendere due parole anche su lui. Mario Ceroli ha augurato a livello ambientale anche in edifici sagri, curando l'arredo della chiesa di Porto Rodondo nel 1971, di Santa Maria Maria del Dittore di Torre della Monaca a Roma nell'87, e San Carlo Romeo al centro direzionale di Napoli nel 1990. A odore del proprio ambiente di vita e di lavoro, Ceroli ha raccolto, alle porte di Roma, uno spazio di 3.000 metri quadrati ai suoi lavori, una sorta di casa-museo. L'uomo straordinamente suggestivo per il numero oltre il 500, e per la qualità dei suoi lavori e dei raccolti, una forma di museo anglianale, in continuo modamente a crescimento, e l'infermamento intenzione di aprire al pubblico, onde renderlo vivo. Proibido e utile, infine, stimolo e modello a vantaggio delle più recenti generazioni di artisti. Quindi noi le ringraziamo vivamente. Adesso la parola a Dale Bocalfa, che è la Presidente dell'Associazione ADA, e con cui collabora con la Tira del Nisav. Ieri abbiamo avuto questa bella notizia, di questa collaborazione già pubblicata negli atti giuridici di questo contratto di network. Quindi le ringraziamo perché fa molto sacrificio, venendo dall'Algeria. Quindi noi ci stiamo molto vicino a lei, collaborando e speriamo di fare altri frutti più importanti di questa collaborazione. Quindi la parola a lei, Dale Bocalfa. Grazie, buongiorno a voi. Allora, sono Danila Bocalfa, Presidente della Sede Operativa DILA, in Algeria, e poi ho l'Associazione ADA, che ha la sede a Brina, nella mia città, quindi quello. Vi ringrazio a voi presenti, e ringrazio Bruno e tutta la scuola Tardina. Quindi, vi leggo adesso il premio delle arti grafiche. Si sente? Ah, ok. Adesso sta bene. Allora, quindi, il premio delle arti grafiche. Al quinto posto, Liga Sala Lafinska, con 669 voti. Il quarto posto sarebbe a Ren Budin Arts 1, con 697 voti. Il terzo premio a Maurizio Pedace 1, 819 voti. Valerian Bressi, opera numero 2, con 1023 voti. E al primo posto, Mirjana Milanovic, opera numero 2, con 1967 voti. Sarebbe il primo posto per le arti grafiche. Complimenti. Del premio 8000. Adesso al premio giornalismo. Allora, al quinto posto abbiamo Adriana Iltimi Cervi, simulicamente la scrittura, con 103 voti. Ancora Adriana Iltimi Cervi, simulicamente Ischia, con 103 voti. Il quarto posto è Al Liga Sala Lafinska, le canzonette, con 108 voti. Il terzo premio, che sarebbe la Daniele Bartocci, con gli investimenti digitali, 204 voti. Il secondo premio di giornalismo è a Angelo Maria Tiberi, la vera amicizia. 207 voti. E il primo posto è a Simpana Lazzarino, ha scritto, ha fatto un'intervista con Adriana Iltimi Cervi, con 339. La parola a Maria. Silpana Lazzarino è nata a Roma, dove vive e lavora nella pubblica amministrazione. Dopo la laurea in lettere, si è dedicata al giornalismo, con particolare attenzione a recensioni di film e mostre d'arte. Tra le collaborazioni in questo campo vanno ricordati quelle di un rato vaticata e con il quotidiano giornale. Attualmente scrive recensioni di mostre d'arte e di eventi per alcuni periodici online. Scrive anche sul quotidiano cartaceo o il Ghispari, che esce a Napoli e a Ischia, in apprezzato allo storico quotidiano al mattino di Napoli. E sulla rivista di le strade in donna, editata in sé stante di Maria Maria Ciaro. Ha scritto inoltre la perfezione al libro Sex Affili pubblicato nel 2015 dal fotografo delle lire Bruno Lignero. Il notevole interesse al giornalismo sono tutte le interviste rilasciate a lei in esclusiva con le quali Silpana Lazzarino ha definito caratteri e comportamenti artistici e sociali di numerosi e importanti personaggi pubblici, quale Vincenzo Savarese, giornalista sportivo, Elisa Famone, avvocato e scrittrice, Cleio Loppi, collezionista di Icone, Patrizia Canola, pittrice, Milena Letrarca, pittrice, Angela Maria Di Perico ed essa. La stia qualificata è stata la sua collaborazione di un'istituzione delle mostre d'arte italiane. Articoli, compubblicati stampa e cataloghi, pubblicati in sua firma, compagno nella divulgazione di importanti e prestigiosi eventi artistici e culturali italiani. Accanto all'arte e al cinema, Silvana Dazzarino, un socio sostenibilice della situazione da Estia La Perina, ha la passione per la poesia. Pertanto, ha partecipato a diversi concorsi di poesia, giungendo il finale e ottenendo importanti riconoscimenti in gran numero di casi, tra i quali ci piace indicare il secondo posto assoluto ottenuto alla quinta edizione per il carri internazionale di poesia a otto milioni con la poesia Il bacio. La diffusione della sua attività poetica ha pubblicato tre raccolte di versi, Cosmogonia, edito dall'edizione di Progetto Futura del 2013, Oltre le immagini tra visione e demozione, che è detto nella pagina nel 2014, la seduzione dell'immagine dall'arte ai versi poetici, Alba Gonzales, Patrizia Canola, mie muse ispiratrici. Edito dal centro tipografico del bolognese e editore nel 2017. Per il premio musica il quinto posto è a Valentina Gramic, tecla, 54 voti. Il quarto sarebbe Aynan di Fabiani con nessuno nessun nome con 54 voti. Il terzo sarebbe a Eva Strazina Strazina Besan con il titolo di Besan con 94 voti. Il secondo posto è a Nicola Pambarone il breve del più lungo 115 voti. Il primo posto è altrimenti è Isabel con la guitarra e mi ricordo che ha sognato la canzone di Zilla. Altrimenti Isabel è un giovane ragazzo canta e suona è una meraviglia quando si sente ci dà brividi. per il premio 8 milioni per il premio narrativa Andrea Giostra con il titolo di Donna vita con 64 voti. Al quarto posto nostra amica cara nostra Angela Maria Tiberi con il libro con il testo di ritorno alla terra con 73 voti. Al terzo posto Liga Sara d'Aprisca Fiamma Rossa 81 voti. Al secondo posto per la narrativa Adriana Iftiniai Cervi simbolicamente il formine 341 voti. E al primo posto abbiamo Alessandro Corsi la balata del mare incantato con 345 voti e lascio la parola a Maria. Bene due parole su Alessandro Corsi Alessandro Corsi vincitore del primo premio sezione narrativa ha il diploma di maturità magistrale ha maturato diverse esperienze lavorative operando come assistente sociale seguendo persone con gravi disagi e non eventi ha pubblicato 19 volumi tra poesia narrativa saggistica teatro ed oggi 450 racconti conoscenze adesso andiamo al premio di recitazione il quinto posto è a Chiara Pavoni un volteggio con 131 posti per voti il quarto Adriana in Ftini e Cervi con ombra rossa 220 voti il terzo premio Katia Massaro in un carcere ammazza un uomo 227 voti il secondo premio è a Antonio Bencarini il volo verticale 269 voti e il primo premio è a Chiara Pavoni erotismo sì 860 voti e lascio la parola a Angela Maria Tiberi Chiara Pavoni prima classificata premio di recitazione 8 milioni donna vera bella esuberante e prevedente come sua attività tutto ci aspetteremo tranne che leggessere queste mani incogni di giovani autori e le poli circolenti composizioni poetiche di autori poco noti eppure il mondo degli erogeni dell'arte è così Chiara Pavoni è così Chiara Pavoni non è artista abbiamo avuto modo di conoscere durante la celebrazione della giornata mondiale della vocia presentata alla belledì amico di Roma di Paola Pavoni della perfetta organizzazione di Maria Bia Ciacchi in quella questione Chiara si fece apprezzare per l'intensità emotiva con la quale gli essi alcune poesie degli autori di provenienza internazionale invitati all'evento tra cui due poesie grazie al volume tra un volume di Bruno Mancini ora Chiara nel ritaglio di tempo che riesce a sottare ai suoi numerosi impegni professionali è impegnata alla preparazione del video che la vedo la protagonista di letture di prose e poesie selezionate dalla presidenza di Dila il curriculum professionale di Chiara Boroni è ricchissimo di esperienze formative che vanno lo studio professionale della danza classica con contemporanea gezza lo studio e le percussioni passando alla scuola di teatro di Borogna e per i corsi di arti sceniche e video presso l'atelier della costa di Castelloncello sono inonorevole sulle partecipazioni mediterranei come regista coreografia attrice e ballerina sì come reading di molte città d'Italia e attività televisive come conduttrice e attrice di corte videoclip inserite in produzioni cinematografiche e ora voglio aggiuntere che è stata stupenda nell'interpretare la mia poesia dedicata a Frida Galo con il premio 8 milioni di poesia al quinto posto avviano Adriana Iftimi e Cedoli con poema unico 531 voze il quarto premio Antonio Fiore dove finisce il cielo 565 voze il terzo Silvana Lazzarino dove sussura il vento 3535 voti il secondo premio è a Aldo Gallina il premio 3823 voti e il primo premio di poesia è a Adriana Iftimi e Cedoli con il titolo di La mia mente con ben 4 milioni 22 voti complimenti Adriana parliamo di Adriana Iftimi e Cedoli coraggio determinazione profonda sensibilità è una innata curiosità sono state le comunicazioni principali che hanno accompagnato Adriana Iftimi e Cedoli e scrittrice professa bella colpa sensibile amante della letteratura e della poesia nata in Romania Adriana Iftimi e Cedoli Adriana il suo percorso di bambina giovane donne e madre ha saputo cogliere gli aspetti positivi della vita nonostante la sua infanzia e crescenza sono state dolorose e difficili per capire situazioni familiari e l'atmosfera e l'atmosfera del regime sotto il regime di Ceausescu ha dovuto trovare in se stessa quella forza e l'energia per fare di ogni suo giorno un'opportunità per essere felice curioso da sempre in fine piccolissima che fa la bambonia non era un giocato di un bambolo bensì i libri della libreria del padre e così già i 4-5 anni riusciva a leggere i testi di letteratura e filosofia con cui trasporreva molti pomeriggi lo studio è stato importante per la sua formazione culturale e personale attenta e interessata per gli argomenti che apprendeva a scuola l'Adriana si mostrava molto portata per le diverse materie fin dalle ventali quando ho scoperto una particolare predisposizione per la cosia o con dare vita le proprie emozioni e stato d'animo a 6 anni ha scritto la sua prima poesia intitolata il cuore una foglia caduto il regime spaglia e dopo diversi spostamenti incontri esperienze come fotonodella e nel cinema diverse fiction giunge a Roma dove è da 25 anni con i figli Alessia e Kevin e il suo compagno maestro Mare Cerro scultore noto al pubblico del cavallo alato posto di fronte alla sede Lai di Saxalubra Cerro è anche odore di quattro chiese una a Porto a Londo una a Toro a Bellarmonica una a Napoli e una all'Istituto Superiore di Poezia e tante altre opere qualità dell'Italia e del mondo Adriana è attrice di una sceneggiatura pubblicato dei libri e vinto un premio internazionale di poesia con Inina di Aduza scritto completamente in italiano un libro che ha ricevuto molte testimonianze di stima ed apprezzamento da parte di personaggi illustri tra i quali vanno adizionati Paolo Villaggio Luca Cordero di Musemo e Bibbia di Maria a fine novembre del 2018 è uscito il suo libro Poesie dove sono inserite le opere di Mario Cerroli con creazione di Pietrangelo a tutto a fuoco giornalista e scrittore Domenico Umbro e Raffaele Pagliarudi si e sentiamo la musica è vero? si poi quindi ringraziamo questo grande personaggio Domenico Pagliarudi perché è con noi fedele e anche Raffaele Pagliarudi Domenico Pagliarudi Iscriviti Grazie a tutti 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 con tutti Grazie a tutti Tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' un Presidente Grazie Grazie a tutti 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 C'era Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti